l'ombra di una rete di pedofilia. Rassicurazioni sul futuro produttivo del gruppo Plasmon in Italia e sulla volontà di superare l'attuale fase di crisi con una politica di investimenti sono state fornite ai sindacati di categoria dall'azienda insieme alla disponibilità ad aprire un confronto per individuare soluzioni condivise rispetto al piano di riorganizzazione che prevede 204 esuberi. Il piano di esuberi riguarda i tre siti italiani di Milano, Ozzano in provincia di Parma e Latina con una proposta di taglio occupazionale di circa il 25% del totale, 900 lavoratori, 112 perderebbero il posto solo a Milano ma come vi dicevo si stanno aprendo degli spiragli interessanti. La procura di Milano ha chiuso le indagini in vista della richiesta di rinvio a giudizio a carico del consigliere comunale milanese della Lega Nord Massimiliano Bastoni accusato di finanziamento illecito ai partiti nell'ambito di un'inchiesta su una presunta tiro di tangenti nella sanità lombarda. Si tratta di un presunto versamento da 10 mila euro riferibile all'imprenditore Viscardo Paganelli che il politico avrebbe ricevuto attraverso un mediatore Ferdinando Azzarello. E concludo con gli ambrogini d'oro. Sono 159 le candidature presentate all'ufficio di presidenza del consiglio comunale per la cerimonia del 7 dicembre. Ora si riunirà l'apposita commissione consigliare per selezionare i premiati. Ed è tutto con questo. Luca Terralinea. Grazie a Filippo Colombo per le ultime notizie da Milano e dalla Lombardia. Ora proseguiamo la nostra seconda parte di Pane al Pane. Siamo in collegamento a questo punto con il professor Giorgio Galli, politologo Galli. Buonasera, bentrovato a Radio Lombardia. Buonasera, buonasera. Stavamo parlando qui con l'avvocato Nicola Walter Palmieri, autore di Guerra delle Finanze e con Daniele Comero della situazione della finanza occidentale. Siamo partiti dagli Stati Uniti visto gli studi di Palmieri. Siamo arrivati poi in Europa e in Italia. Stavamo parlando anche del ruolo che dovrebbe avere un po' la politica nel cercare di gestire in qualche modo la finanza e l'economia. I dati che ci ha dato, come ero poco fa, sono invece agghiaccianti. Siamo passati da 1.500 miliardi di debito pubblico del 2005, se non sbaglio, ai 2.072 miliardi attuali. Una cosa esagerata. Che ruolo deve avere in questa fase Galli la politica o che non sta avendo? Secondo me non può avere nessun ruolo. Io penso che il nostro sistema politico sia in una fase quasi di agonia e quindi non riesce a fare le cose più semplici. Figuriamoci se riesce a fare una cosa così difficile come controllare il sistema bancario. Io credo che deve essere ancora più grave la situazione, crearsi qualche tipo di trauma perché la situazione possa cambiare. Altrimenti assisteremo impotenti a questa vicenda. Fino all'ultima, fino all'Italia ho sentito anche adesso che 4 anni persi, miliardi buttati via. Quindi non vedo nessuna soluzione se non dopo una situazione ancora peggiore dell'attuale che possa occorre un cambiamento politico abbastanza radicale. Io credo che di fatto sia già sospesa la Costituzione. Napolitano si comporta come il presidente di una Repubblica presidenziale. Quindi siamo in una situazione veramente drammatica e fuori da ogni possibilità di valutazione e di normativa. Galli, ma chi comanda? Non solo in Italia. Si comandano le multinazionali e le banche, questo è chiarissimo. Questo è abbastanza evidente da dieci anni a questa parte, perlomeno. Io infatti nell'introduzione a questo libro avanzo l'ipotesi di leggere. So che Comero non è d'accordo, ritiene questa idea un po' autopistica. Sorride infatti, non so se lo vede, sta sorridendo. Ecco, d'altro canto io mi riferisco proprio come politologo ai classici del pensiero liberale che hanno ritenuto che il potere andava controllato dove viene effettivamente esercitato. Lei mi ha chiesto chi comanda. Il Parlamento comanda pochissimo. Quindi dice lei, votiamo direttamente il presidente di banca? Sì, sì, vediamo se non tutte almeno una parte del Consiglio di amministrazione. Nell'introduzione sono un po' più preciso, ma certamente se si vuole intervenire per modificare quella che appunto Palmieri giustamente chiama il credito che doveva servire all'economia e allo sviluppo è diventato un casino con carte truccate. Se si vuole modificare questa situazione bisogna controllare il potere direttamente. Io non vedo altra soluzione. In realtà nel libro, l'elenco anch'io nell'introduzione, Palmieri indica una serie di misure che possono essere tentate. Io credo che non siano sufficienti, ma in ogni caso per quel tipo di misure delle quali lui parla ci vuole un potere politico forte. Forse potrebbe essere realizzato in paesi, non so se neanche gli Stati Uniti, forse la Germania che ha una classe politica abbastanza efficiente e una capacità di intervento, ma assolutamente in Italia non ci si può neanche lontanamente pensare. Quindi io ripeto, bisogna controllare chi comanda e chi comanda sono le banche, le multinazionali ed è lì che il cittadino deve manifestare la sua volontà. Adesso tutto questo può sembrare utopistico, ma io mi sento talvolta di essere come uno di quegli studiosi del Settecento che dicevano che al di là della monarchia assoluta e del dispotismo illuminato bisognava dare il potere ai cittadini. Quando Sayers diceva in Francia, prima della rivoluzione, che cos'è il quarto Stato, il terzo Stato, cioè la borghesia produttiva, non è niente e cosa vorrebbe essere almeno qualcosa. E allora pensare che questo qualcosa era il diritto di voto per scegliere la rappresentanza politica poteva sembrare un'utopia, così come al mio amico Daniele sembra un'utopia, a quello che dico oggi, ma chi comanda? Comandano loro, fanno quello che vogliono, non controllati da nessuno, gestiscono le risorse del paese senza nessun mandato e allora o accettiamo questa situazione o la modifichiamo radicalmente. Professor Galli, l'ultima domanda che vorrei farle, io la leggo da quando sono un bambino praticamente. La ringrazio molto, spero di non averla annoiata troppo. No, è sempre stato, come dire, illuminante e illuminato. Però le chiedo questo, ma com'è che è precipitata così la politica italiana in modo particolare? Perché il problema è un po' europeo, diciamolo. Però ho l'impressione che quella nazionale sia proprio precipitata, la classe politica, la politica come servizio alla comunità. Sì, io credo che il guaio principale è la mancata selezione della classe dirigente, della classe politica dirigente, perché in qualche modo io credo che abbia pesato una cultura politica con una forte influenza cattolica e poi il lungo periodo di influenza del Partito Comunista. Però, pur avendo molti aspetti negativi questa presenza, aveva anche il merito parziale di selezionare la classe politica un po' meglio, non è che stia dicendo che dobbiamo rimpiangere il bipartitismo imperfetto, se lei ha letto. Ma la selezione che avveniva nella cosiddetta Prima Repubblica non era l'ideale, ma era un po' meglio di quella attuale. Diciamo che almeno era una selezione, Galli, giusto? Sì, era una selezione. Almeno una selezione c'era. Non perfetta, con tutti i limiti che io ho analizzato più volte nei miei libri, ma dopo la situazione, non ti rilasamente peggiorata, oggi non si può neanche dire che ci siano partiti, perché i soggetti politici che noi abbiamo davanti oggi sono, da un lato, questa strana aggregazione di ex-democristiani e di ex-comunisti divisi quasi su tutto e che fingono di non esserlo, dall'altro un partito patrimoniale e personale come quello di un Berlusconi in decadenza che adesso sembra trovare molta difficoltà a tenere insieme, non si sa nemmeno se ci sia ancora il PDL o se ci sia già Forza Italia. E dall'altro c'è un movimento che merita di essere studiato, nato nel 2009, al cui vertici ci sono due personalità abbastanza strane e abbastanza diverse come Grillo e Casaleggio. Quindi i partiti che selezionavano una classe politica, sia pure con dei limiti, l'influenza cattolica da un lato, il burocratismo comunista dall'altro e quel poco di presenza che c'era nei socialisti, quel tipo di selezione è completamente venuta meno. Del resto anche Daniele è un grande esperto di legge elettorale, abbiamo scritto anche, abbiamo presentato l'anno scorso proprio a Radio Lombardia un libro nel quale dicevamo che col Porcellum vi è un Parlamento di nominati, non sono neanche scelti.